Allora, giochiamo, non c'è niente da fare, mettiamo questa, non metti da qui e ci andiamo con il petto. Roberto, vieni un attimo, vieni qui, ti faccio vedere una cosa, vieni qua, vedi sta moneta, se tu fai così, vieni, guarda, si c'è, guardaci, ha un gran colore, la moneta da volibrande.